Io, per una festa, mi poi aggiungerà, perché mi hanno indianente descritto tutto quello che avverrà da giovedì 16 a domenica 19. Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto da parte del comitato e chi lo ordina, cioè Gianfranco Bolini, unitamente chiaramente a quello che era il lavoro del segretario, di organizzare una festa comunque vicino alla gente, in un momento come questo è ancora più importante far sentire vicino il partito quelle che sono le esigenze della cittadinanza, vedremo se saremo in grado di metterle davvero poi in pratica anche nel corso della campagna elettorale, io lo sono certo, ma ancora più importante nel corso della prossima legislatura, quindi sarà un buon test e un buon termontro per vedere quello che è il clima generale della cittadinanza attorno a problemi che li riguarda direttamente e che chiaramente noi dobbiamo voler con l'olente gestire. Tutto il resto hanno già, come vi dicevo, altrimenti descritto, io sono a disposizione insieme a Marco, insieme al segretario per altre domande.